Ben ritrovati a tutti da Stefania Cattaneo di Trebimeteo. Diamo insieme uno sguardo al tempo previsto per questo mercoledì in Europa. Alta pressione presente sull'Europa sudorientale, invece piogge e anche delle nevicate sul comparto settentrionale europeo. Ma entriamo proprio nella particolare della nostra penisola perché l'Italia è ancora pressoché divisa in due. Al nord ancora delle piogge sparse, specie al nord-ovest, meglio al centro, ancora un po' di instabilità sul versante ionico e in parte sulla Sardegna. Entriamo allora nel particolare partendo dal nord Italia. Come vi anticipavo, ombrello da tenere a portata di mano al nord-ovest, ancora degli annuvolamenti e qualche pioggia un po' meno intensa al nord-est, delle aperture infine sull'Emilia, specialmente il versante dell'alto adriatico. Al centro situazione per lo più stabile ed asciutta con annuvolamenti alternati a delle belle schiarite. Infine al sud, sì, la situazione è per lo più anche qui di cieli sereni o poco nuvolosi, però abbiamo degli annuvolamenti e qualche pioggia sul versante specialmente ionico e anche sulla Sardegna. Vi invito quindi a restare aggiornati in tempo reale tramite la nuova app di Trebi Meteo.